Obbligo di mascherina? Il ministro Schillacci firma l'ordinanza. Ecco cosa cambia dopo il 30 aprile. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati. Anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali. Troverete tutti i link in descrizione. Grazie mille. È prossima la firma da parte del ministro della salute, Orazio Schillacci, dell'ordinanza che, finalmente, dice basta. Parzialmente, come vedremo, ha l'obbligo di utilizzare le mascherine in ospedale dopo la scadenza della norma il prossimo 30 aprile. Questione di ore, dunque, e verrà definita la nuova ordinanza a cui stanno lavorando i tecnici del ministero della salute, che dovrebbe prevedere una riduzione delle aree in cui pazienti, personale e parenti in visita dovranno indossare la mascherina. In verità, l'obbligo di utilizzo delle mascherine resterà nelle RSA, nei reparti ospedalieri di malattie infettive e nei pronto soccorso, per il personale dipendente e i parenti in visita. Ha precisato lo stesso ministro a margine della cerimonia delle medaglie al merito per la sanità pubblica al Quirinale, annunciando che oggi stesso firmerà l'ordinanza in materia. A partire dal primo maggio, dunque, nei bar, immensa, e nelle sale di stazionamento degli ospedali, le mascherine non saranno più obbligatorie né consigliate, secondo quanto verrà sancito dalla nuova ordinanza. Nelle zone in cui non sarà più obbligatorio l'utilizzo, l'idea è di lasciare una raccomandazione all'uso del dispositivo di protezione se sono presenti anziani, pazienti fragili e immunodepressi. Ma in ultima analisi tale decisione spetterà ai direttori sanitari degli ospedali, ai direttori medici delle strutture territoriali e ai medici di famiglie e pediatri, nei loro studi e nelle sale d'attesa. Era stato lo stesso ministro Schillaci, lo scorso 30 dicembre, a prorogare l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine come misura anti-covid nei luoghi a rischio, una misura ereditata dai governi Conte e Draghi. Alla scadenza del precedente obbligo, il ministro aveva anticipato che sarebbe poi seguita una nuova proroga. Indossare le mascherine in ospedale è una forma di rispetto verso i pazienti più deboli. In occasione della già citata cerimonia di consegna delle medaglie al merito della sanità pubblica, tenutasi al Quirinale, Orazio Schillaci si è rivolto al personale sanitario elogiandone l'operato durante la pandemia di covid, come leggiamo su Il Fatto Quotidiano. Ecco le sue parole. Nell'affrontare la più grave crisi sanitaria dai tempi della Prima Guerra Mondiale, avete mostrato molto più del semplice senso del dovere, ha detto il ministro. Vi siete fatti testimoni dei valori di solidarietà, altruismo e fratellanza, anteponendo la sicurezza e la salute della collettività a quella individuale. La notizia per il momento è solo per il momento, termina qui. Se non lo avete ancora fatto questo è il momento giusto per iscriversi al canale. Attivate anche la campanellina delle notifiche, per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video. Seguiteci anche sugli altri canali e sui social. Troverete tutti i link in descrizione. Lasciate anche un like e un commento, ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale. Grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata. L'appuntamento è sempre per la prossima notizia.